il treno regionale 12 7 5 1 di trenitalia delle ore 5 12 per palermo centrale è in partenza dal binario 3 ferma in tutte le stazioni eccetto buon fornello fiume torto di labate ficazzarelli favara di villabate il treno regionale 12 7 5 3 di trenitalia proveniente da santa agata militello e diretto a palermo centrale delle ore 6 e 09 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma la scari campo felice termini merese bagheria il treno regionale veloce 38 32 di trenitalia proveniente da palermo centrale e diretto a messina centrale delle ore 6 e 57 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma attusa santo stefano di camastra santa agata militello capo d'orlando naso brolo ficarra patti san piero patti barcellona milazzo annuncio cancellazione treno il treno intercity 728 di trenitalia previsto in arrivo da palermo centrale è diretto da palermo centrale da palermo centrale da palermo centrale è diretto a roma termini alle ore 7 e 58 oggi non è stato effettuato ci scusiamo per il disagio il treno regionale 12 7 5 6 di trenitalia delle ore 8 e 03 proveniente da palermo centrale è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale veloce 38 33 di trenitalia proveniente da messina centrale è diretto a palermo centrale delle ore 7 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a campo felice termini merese bagheria il treno regionale 12 7 55 di trenitalia proveniente da messina centrale è diretto a palermo centrale delle ore 8 e 05 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma alla scari campo felice termini merese bagheria il treno intercity notte 19 57 di trenitalia proveniente da messina centrale è diretto a palermo centrale delle ore 8 e 36 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a termini merese allontanarsi dalla linea gialla ferma a termini merese la prima classe è in testa al treno il servizio cucette in centro treno il treno intercity notte 782 di trenitalia proveniente da palermo centrale è diretto a messina centrale delle ore 13 40 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma sant'agata militello capo d'orlando naso patti san piero patti barcellona milazzo la prima classe è in coda al treno il servizio cucette in centro treno il treno intercity 7 2 9 di trenitalia proveniente da messina centrale è a palermo centrale delle ore 22 e 05 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a termini merese